gentili telespettatori buona giornata e così bersani è felice per essere stato querelato da vannacci e parla di giorni pieni di soddisfazioni allora pierre luigi bersani lo smacchiatore di jaguari il pettinatore di bambole non sono mica noccioline lui che ha coniato tutte queste frasi simpatiche ospite nella trasmissione di la 7 8 e mezzo gestita da lilly gruber proprio ieri sera 28 febbraio parla del caso vannacci in particolare della notifica della querela da parte del generale dice mi è arrivata la notifica sono stato querelato dal generale vannacci per diffamazione perché sono giorni pieni di soddisfazione francamente dice perché io voglio capirla questa cosa qui dice che poi però si fa più serio e precisa io non ho insultato nessuno ho fatto una domanda precisa cioè nel bar italia se uno dà della normale a uno che ha preferenze sessuali differenti diciamo così se uno dà della normale può dare del coglione a un generale questo io ho detto è una domanda che pretende una risposta dice bersani quindi viene querelato appunto perché nella denuncia viene insultato il generale vannacci facendo questa strana questa strana domanda queste sono delle domande retoriche che cos'è una domanda retorica è una domanda che ha già una risposta quella di bersani non è una vera domanda se uno va dal bar e dice che quello lì è normale allora si può dare anche del coglione a un generale non è non c'è bisogno che tu stia mettendoci nome cognome roberto vannacci questo tanti non l'hanno capito quando tu diffami una persona o la insulti non c'è bisogno che dici il nome il nome può essere sottointeso se tu sei in una trasmissione televisiva e il conduttore ti sta chiedendo di vannacci e tu rispondi così come ha risposto lui senza nominare vannacci dicendo solo a un generale praticamente sta insultando lui anche se non l'hai nominato e stai parlando a un generale ipotetico qualunque bersani non si è accorto o è stato superficiale nel non valutare che quella parolaccia anche se vannacci non era pronunciato in questa domanda retorica era indirizzata a lui quindi quando siete davanti a un tribunale non potete dire al giudice scusi è guardi che io non ho detto roberto vannacci ho detto a un generale la parolaccia e il giudice dice no qui è sottointeso qui è chiaro chiarissimo che lei sta parlando assolutamente al cento per cento di roberto vannacci quindi anche se lei non lo nomina lei sta insultando il generale pertanto l'insulto c'è poi bisogna vedere il giudice che trovi ci può essere il giudice che dice sì è un'offesa e devi pagare non lo so 20 mila euro di danni avannacci più le spese legali tue e sue oppure puoi trovare il giudice che dice no questa fa parte di una normale un po colorita critica politica voi dite ma possibile che può capitare un giudice che condanna e un giudice che assolve sì lo abbiamo visto per esempio sui saluti romani c'è il giudice che ti dice no il saluto romano non è reato e c'è l'altro invece che ti dice reato quindi se voi avevate immaginato che le leggi non potessero essere interpretate invece sì la legge viene interpretata c'è scritto la legge uguale per tutti va bene però la legge viene interpretata capite quando hanno dato del fascista a salvini il fotografo l'ex fotografo dei benetton come si chiama toscani aveva detto che salvini era fascista salvini lo ha portato in tribunale il giudice ha detto fascista fa parte del della normale critica politica dare a un politico del fascista salvini ha speso soldi di avvocato tempo eccetera eccetera e ha trovato il giudice che che non la reputava un'offesa che non le non le deve la dignità di salvini eccetera eccetera però poteva trovare assolutamente un giudice che diceva no beh questo questo è un'offesa sono 5.000 euro di multa più devi pagare le spese degli avvocati ecco quindi c'è una denuncia per pier luigi bersani e vedremo poi lui dice ancora perché se passa il principio che uno magari con le stellette può decidere chi è normale quale sia l'immunità l'umanità normale siamo avanti con i lavori intendiamoci bene e poi conclude dopodiché lo hanno querelato in tanti per altri motivi ma io sono di un'altra linea io rispetto tutti però se tu ne parli al bar ne parlo al bar anch'io infatti io l'ho presa la querela non l'ho fatta sono curioso di sapere come andrà a finire voglio proprio saperlo e poi lo sapremo bersani solo che una querela comporta un sacco di tempo perso un sacco di soldi spesi che poi tu abbia ragione o no i soldi li spenderai tempo e soldi è nervoso con vocazioni eccetera eccetera perché gli avvocati non lavorano gratis ecco quindi l'avvocato di bersani andrà pagato l'avvocato di vannacci andrà pagato ecco pertanto sì siamo curiosi di vedere come va a finire però caro bersani se quell'altro dice che non sono normali è stato appunto denunciato per istigazione all'odio razziale e denunciato poi anche per altre cose pertanto lui ha denunciato per essere stato definito con quella parolaccia a questo punto qualcuno lo magari lo denuncerà per essere stato definito anormale e vedremo poi alla fine dopo anni chi avrà ragione e chi avrà torto ricordiamoci tutti che esprimere la propria opinione non significa calunniare o diffamare gli altri ecco questa è la realtà parolacce insulti notizie inventate una cosa la critica è un'altra grazie a tutti e arrivederci a presto